Chiesi per due volte il suo licenziamento, la prima volta lo teni d'occhio nel periodo a cavallo delle feste di fine d'anno, Natale fine d'anno, se sia presente in redazione o al lavoro in quei giorni si guadagnano molti soldi e fino a tre volte anche la paga giornaliera. E lui c'era? Lui non c'era, non era reperibile dove aveva detto, arrivò il foglio mensile delle presenze, lui si era segnato presente, la seconda volta fu per aver falsificato quattro note spese. C'è stato mai un momento in cui lei ha chiesto conto a Salvini di essere un assenteista, di falsificare fogli viaggio e presenza? Certamente, lui mi rispose a Muso Duro, tu passi, io resto e credimi diventerò sempre più potente. Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, A.D. Ruhle, Malcolm Harbour, Denise De Jong, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani, come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fanullone in questo Parlamento. È solo in TV, è mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna sei un fanullone in questo Parlamento. Lo dico io! Signor Salvini! Onorevole Salvini, prego, a facoltà. Grazie, io non me la prendo. Ci sono colleghi di sinistra che querelerebbero per dichiarazioni di questo tipo. Ci sta, ci sta. Ci sta il dissenso, ci sta il consenso, quindi... Salvini, ma tu esattamente quando lavori? Cioè ti spiego... Domani! Ecco, a me no, ma no, perché tu, visto che sei europarlamentare da 2009, hai una percentuale di assenze che è da record. No, no, ma non è esattamente. No, no, ci sono dei video. Tarabella, l'eurodeputana, lo so che vuoi lasciar perdere, te lo dico io. No!